Ieri è stata una tornata di festa, lo sarà anche oggi, lo sarà domani, perché è arrivato quello che si disperava potesse arrivare, nessuno avrebbe immaginato che potesse arrivare a una voce così importante, la più importante di tutte, il Presidente della Repubblica, lo conosco bene e anche nelle mie condizioni di malattia lo ascolto a distanza e ci siamo scambiati alcune idee sull'arte, nelle occasioni sia in Parlamento che quando poi è diventato il Presidente, ma sono stato ladraghi per chiedergli quello che senza chiederlo ha fatto Mattarella e cioè ha detto niente offese al paesaggio, non lo ringrazierò mai abbastanza, qualunque cosa abbia potuto fare o abbia potuto non condividere di Mattarella, questo è un dono del cielo, inatteso, inatteso perché arriva poi da un giornale che uno guarda sempre con sospetto che è il Fatto Quotidiano, che forse utilizza questa dichiarazione di Mattarella per creare confusione del governo, per far vedere che Draghi è peggio di Conte, che non riesce a mettere d'accordo l'idea della conservazione dei monumenti, della cultura, della bellezza, del paesaggio di cui è titolare Franceschini con l'idea del progresso, dell'innovazione, della necessità di cambiare tutto del Ministro Cingolani, che io non conosco ma che certo potrebbe essere un pericolo perché dietro l'idea dell'energia green c'è distruggere per sempre il paesaggio che è la cosa più sacra che abbiamo e che lo è stato fino alla Costituzione e fino a quando la parola ambiente e oggi l'orribile transizione ecologica lo hanno fatto pensare più a dei valori di ambiente come sostanza che non come visione, ma il paesaggio è un valore dello spirito e Mattarella lo ha finalmente detto, giù le mani dal paesaggio, distruggere i paesaggi più belli d'Italia come hanno fatto in Calabria, come hanno fatto in Puglia, come hanno fatto in Sicilia, come hanno fatto in Molise, continuando a farlo anche nel Lazio, della meravigliosa Tuscia, nel Chianti, in Toscana, non solo vuol dire contrastare e contraddire l'articolo 9 della Costituzione che dice la Repubblica che tutela il paesaggio, ma non capire che il paesaggio è uno stato d'animo, una condizione dello spirito, qualcosa che appartiene alla nostra dimensione più alta. Ecco cosa dice Mattarella. Gli insulti al paesaggio e alla natura, oltre a rappresentare un affronto all'intelligenza, solo un attacco alla nostra identità. Colpito al cuore il Ministero della Tradizione Ecologica, una puttanata voluta da quei deventi dei Cinque Stelle che sono stati per tre anni al governo senza avere bisogno, addirittura con un ministro, che è il ministro Costa, all'ambiente, di inventare transizione ecologica, che è diventata una minaccia per tutti, portandosi poi dentro resilienze e altre schifezze di una lingua corrotta attraverso concetti di gente senza idee, senza pensiero, altro che l'energia pulita, greta, il mondo, l'ambiente. Ecco, un interessante saggio di Carpentieri, che è stato a lungo capo di gabinetto, un ministro di beni culturali, puntualizza la differenza tra ambiente e paesaggio. Figuriamoci poi paesaggio e transizione ecologica, vuol dire tutti i criminali più straordinari delle colline italiane coperti di torri eoliche di 150 metri che stuporano quelle povere colline e poi tutti i campi, campi agricoli, invece di essere coltivati con l'ulivo o con la vite, coltivati per avere maggior profitto, con i pannelli fotovoltaici. Finalmente la più alta voce d'Italia, la voce di garanzia ha detto basta, stop, stop, non distruggete il paesaggio. Non siamo mai stati così felici, tutti quelli, pochissimi, che hanno combattuto questa battaglia in questi anni, da Italia Nostra contro la Lega Ambiente, che invece è favorevole a trasformare il paesaggio in questi orribili schifoni. Poi immaginate fra vent'anni o trent'anni quando andano a smontare questi accrocchi di ferro montati penetrando nelle colline e violentandole. Ed ecco il Presidente della Repubblica dire quante volte abbiamo ascoltato il vocabolo bellezza associato a Italia. Per dare profondità a questo straordinario abbinamento di parole occorre fare ricorso al senso che i nostri padri costituenti seppero dare a una terza parola, cultura. Accanto alla cultura c'è il valore della ricerca, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, tutti veri da promuovere e tutelare. Il riferimento più evidente è l'articolo 9, che appunto dice lì, della tutela del paesaggio. Naturalmente l'idea dell'energia pulita, l'idea del fotovoltaico, di riuscire a restituire energia in percentuali poi minime, migliaia di pale e lo 0,2 di energia prodotta indicano il rischio di quello che qui è ben detto. Eccolo qua. Il governo è staccato proprio sulla tutela paesaggistica. Da una parte il Ministero per la tradizione ecologica, veramente oncologica potremmo chiamarla, la tradizione oncologica perché è quella che più si rappresenta con il cancro che si vuole dare alla bella Italia, che vuole svuotare i poteri delle solitendenze per facilitare l'installazione di paleoni e pannelli senza magari troppo l'interesse artistico dei luoghi. Non solo artistico, cari amici del fatto, ma paesaggistico, la bellezza del paesaggio della Val d'Orcia in Tuscia, il paesaggio come una dimensione luminosa in cui senti la presenza di Dio distrutto dalle paleoliche più vereconde che volevano montare per esempio a Sepino, che abbiamo difeso in tutti i modi con Rutigliano e con l'amico dell'Antonio Astella e adesso invece a Ferento, adesso a Tuscani, a Tuscani con le paleoliche, ma dovete mettervene nel culo le paleoliche, scusa Nattarella. Ti ringrazio comunque, ringrazio il Presidente per questa inattesa, straordinaria dichiarazione che è un dono che dovremmo appunto tenere conto, questo è il Presidente della Repubblica e lui ancora per il tempo che resterà. Draghi l'abbiamo informato e ha capito benissimo come è la questione, certamente deve bilanciare tra i due ministeri che vi ho detto, ma io voglio ringraziare nel modo più totale, più convinto Mattarella e mi piace che questo che abbiamo visto ieri su Il fatto, troveremo domani su Vanity Fair, perché il messaggio di Mattarella è una lettera a Vanity Fair che arriva e testimonia come lo Stato si riappropria della sua dimensione. della sua dignità. La Repubblica tutela il paesaggio, tutela il paesaggio, quello che è rimasto intatto dai tempi in cui lo ha rappresentato Giotto, quello che lo ha rappresentato Piero della Francesca, lo ha rappresentato Lorraine, Corot, il paesaggio italiano che è poesia, che è spirito, che è Dio. Grazie Mattarella, grazie, grazie per aver dato con il tuo più autorevole messaggio il segnale che non bisogna distruggere quello che è dentro la nostra anima, che è dentro la nostra memoria, che fa parte di quello che noi abbiamo visto e vogliamo continuare a vedere nell'Italia la cui bellezza non è soltanto dei monumenti, ma proprio nel meraviglioso paesaggio intatto, puro, incontaminato, che queste mani sporche in cui spesso entra anche la mafia, come nelle regioni meridionali dove si è diffuso il fotovoltaico, si è diffuso l'eolico, abbiamo dovuto verificare. Lo disse a Napolitano quando venne a trovarmi a Salemi e se qualcuno aveva dei dubbi sul fatto che la mafia sia entrata in questo affare, condizionandolo perché è un affare da milioni con gli incentivi, con i contributi dello Stato, riascolte l'Ina quando dice i soldi Matteo Messina Denaro gli ha fatto con i pali eolici, lo ha detto, teniamo conto delle parole di Lina, tu forse le ricordi Mattarella, ma Presidente, ma quello che tu hai detto va al di là del male, della corruzione, della mafia che sono dietro questo terribile affare e invece è soltanto il desiderio di salvare una parte profonda della nostra anima che il paesaggio ci ha lasciato dentro e che non dobbiamo cancellare quando camminiamo lungo l'Italia e come già non ricevamo più a fare in Puglia e in Sicilia e vediamo i paesaggi che ci parlano di Dio, come ha detto per primo San Francesco nel suo Cantico delle Creature. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.